Non sono neppure al punto di partenza. Quando inizierò a superare un difetto? Commento. Se io non mi sono ancora accorto di avere un difetto, che i maestri materiali chiamano limitazione, rispetto al superamento del difetto, non sono neppure al punto di partenza. Sarò a questo punto, quando avrò posto attenzione alla mia limitazione, quando mi sarò accorto che esiste, o almeno quando comincerò ad avere il dubbio se avere o non avere quella limitazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.